carissimi amici e amiche bentornati a una nuova puntata del ciclo di carichesi dedicato alla testimonianza di gloria polo che abbiamo chiamato alle porte degli inferi dell'inferno e una volta scorsa è stata una puntata molto molto forte dove sono state diciamo svelate senza troppi perdonatemi peri sulla lingua da da gloria alcune trame sataniche che però stanno prendendo corposamente vita attraverso alcune dinamiche alcune organizzazioni progetti politici e legislativi che sono di fatto realtà dei nostri giorni e temi peraltro di una straordinaria attualità sotto tutti i punti di vista io ci stiamo formati a un certo punto proprio con la l'affermazione rileggo troppi pensano erroneamente che tali cambiamenti culturali in cui siamo emersi fino al collo compresa l'ideologia di genere che era l'ultima cosa e il transumanesimo di cui aveva parlato siano frutto di un progresso naturale dell'umanità no no essi sono stati scientemente introdotti nella società dai governi delle nazioni firmatari delle risoluzioni ono sono introdotti come strumenti di ingegneria sociale miranti in ultima analisi a generare una nuova coscienza pubblica universale post cristiana e a ridurre la popolazione mondiale questa è la terribile e attuale missione luciferina questa è un'opera di satana in persona e da qui riprendiamo la lettura proseguendo satana oltre a tentare di portare con lui all'inferno gli esseri umani diventi vuole anche impedire che nuovi esseri umani nascano la ragione di questa seconda azione satanica è duplice prima di tutto toglie a dio la gioia di avere nuovi possibili figli e poi si evita il combattimento contro nuovi santi che gli sottrarrebbero tante anni per dio è gioia l'esistenza degli esseri umani ecco perché ha comandato alla prima coppia di umani e a noè dopo il diluvio siate fecondi e moltiplicatevi la possibilità che dio abbia nuove creature umane da amare passa esclusivamente per sua stessa legge di amore e di libertà dalla libera e feconda unione delle coppie umane eterosessuali dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e giungano alla conoscenza della verità e questo piano ce l'ha fatto conoscere gesù con le sue azioni e le sue parole questa è la volontà di colui che mi ha mandato che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato ma che lo risusciti nell'ultimo giorno questa è infatti la volontà del padre mio che chiunque vede il figlio e crede in lui abbia la vita eterna io lo risusciterò nell'ultimo giorno cosa potrà l'umanità vedere il figlio e credere in lui se i santi cioè coloro che più evidentemente lo fanno presente al mondo vengono uccisi già nel grembo materno allora prima pausa operazione satanica è duplice portarsi all'inferno gli esseri umani che ci sono e impedire che vengano alla luce quelli che non ci sono va detto sono difficile attenzione che per dio l'esistenza degli esseri umani è gioia la mentalità oggi quasi universalmente diffusa salvo rare eccezioni e purtroppo è in numerosissime famiglie è che l'esistenza degli esseri umani non è percepita come una gioia come una cosa da desiderare ma come una minaccia la vita è considerata una minaccia da cui difendersi per cui un figlio massimo due basta poi e anni 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 e contraccettivi ora che ascolta queste cose si deve chiedere si deve fare queste queste domande come dire la non adesso non voglio come dire anzi citiamola santa giovanna beretta molle io ho conosciuto la figlia che ho invitato a suo tempo a rendere testimonianza nella parrocchia dove mi trovavo precedentemente quando santa giovanna beretta molla ha quattro figli in sei anni di cui con l'ultimo ci ha lasciato la vita perché ha anteposto la gravidanza alle cure dalla malattia che aveva ma quando si rimaneva incinta racconta la figlia andava dal parroco a far suonare le campane a festa come dovrebbe essere normale una coppia che si sposa una coppia di cristiani che si sposano ma che cosa si sposano a fare se non se non sono come dire generosamente aperti ad essere cooperatori con dio per il dono della vita chi è che chi è che adempio a questa a questa missione non è la mia missione questa io non ho il compito di generare esseri umani io ho il compito di generarli al cielo cioè di farli da figli dell'uomo figli di dio e di insegnarli a vivere da figli di dio ma non di farli non è compito mio e chi li fa? il mio compito è di aiutarli se speriamo che ci riesco a diventare santi ma prima di averci santi si vogliono gli uomini e gli uomini non è compito mio farli né compito di una persona che non ha abbracciato la vocazione del matrimonio quindi che è celibe, che è nubile che è vergine e consacrata anche nel mondo o che ha scelto di santificarsi non attraverso la via del matrimonio proseguo la lettura perché nella nostra cultura contemporanea si è quasi completamente dimenticata che la vita dell'uomo proviene da dio è suo dono sua immagine è in pronta partecipazione del suo soffio vitale di questa vita pertanto dio è l'unico signore l'uomo non solo non può disporne ma deve proteggerla dio stesso lo ribadisce a Noè dopo il diluvio domanderò conto della vita dell'uomo all'uomo a ognuno di suo fratello ma quanti cristiani hanno compreso che saremo giudicati sulla protezione che avremmo dato ai nostri fratelli fragili e nifesi e specialmente a quelli che ancora si formano nel grebo materno ma chi è più fragile e indifeso di una creatura che si forma nel grebo materno e se dio domanderà conto della vita dell'uomo all'uomo a ognuno di suo fratello ma che conto domanderà di questa peculiare forma di vita fragile completamente affidata nelle mani di chi deve difenderla l'amore dovrebbe spingere ogni cristiano a salvare queste fragili vite indifese dalla ferocia dei nuovi erodi che da quando nei diversi ordinamenti statali è stato introdotto in regime abortista sono capaci di massacrare nel mondo circa un miliardo e 600 milioni di nascituri dato aggiornato al giugno 2021 ci rendiamo conto un miliardo e 600 milioni di esseri umani mancano all'appello perché sono stati volontariamente uccisi nel grembo delle male un miliardo e 600 milioni di persone gravano su questa generazione che chiamarla perversa e degenere come disse Gesù dei suoi è poco è un complimento un miliardo e 600 milioni di persone ma tutti quei criminali che hanno approvato quelle leggi perché le hanno approvate quelle leggi nei parlamenti e nei governi se la vedranno con domine Dio perché queste vite umane qui stanno a carica loro quanti aborti sono stati fatti in Italia dalla legge 194 dall'intoccabile secondo qualcuno legge 194 è guechifiata sapete su chi stanno in carico tutti quei milioni certamente di aborti che sono stati fatti su quella legge chi ci ha messo la firma lì sopra capo del governo che ne so presidente della repubblica non parliamo di chi l'ha presentata e la proposta nel nel parlamento l'amore dovrebbe spingere ogni cristiano anche ad occuparsi del destino eterno di questi nascituri privati non solo della vita fisica ma nella maggior parte dei casi essendo privati del battesimo anche dell'ingresso immediato in paradiso e attenzione e attenzione se non si liberano queste anime dal limbo che ne dica qualcuno esiste allora il limbo sicuramente non è eterno io ho parlato di queste cose in vari cicli di catechesi soprattutto per chi vuole sapro fondire è stato appena da poco pubblicato in versione aggiornata è ripetuta e corretta il mio libretto fuscoletto molto molto breve sono un'ottantina di pagine sui nuovissimi dove proprio la questione del limbo dedico ampio spazio perché su questa questione con i recenti interventi non magisteriali ma teologici che affermano che comunque i bambini non battezzati possono raggiungere la salvezza qualcuno si pensa che il limbo non esiste più ma possono raggiungere la salvezza non significa che appena abortiti vanno in paradiso ora Sant'Ommaso d'Aquino diceva che il limbo era eterno io con tutto il rispetto per Sant'Ommaso d'Aquino non posso pensare a una cosa di questo genere perché capite c'è per un'anima essere privata eternamente per la visione beatifica non avendo colpe attuali sue sarebbe veramente mi sembra veramente un po' eccessivo ma c'è un'ipotesi che peraltro è anche avallata dalla mistica Maria Valtorta che chi mi conosce sa che mi è particolarmente cara che fino alla risurrezione della carne quindi fino alla parusia queste anime quindi millenni saranno prive della visione beatifica come ho specificato in tanti miei interventi non ci vuole nulla e questo è la prima le prime persone che devono fare doverosissimamente almeno questa cosa dopo averlo ucciso nel grembo sono i genitori sono basta che facciano celebrare una messa una perché un animo di un bambino non battezzato non è come le anime del purgatore che avevano bisogno di 10 20 100 forse 300 forse 1000 messe per andare in paradiso secondo i peccati che hanno fatto quello non c'è nessun peccato la messa celebrata per un bambino non nato non è una messa di espiazione ma è semplicemente una messa celebrata con l'intenzione di far arrivare a quel bambino gli effetti del sacramento del battesimo che purtroppo non ha potuto ricevere e questo vale anche per gli aborti spontanei con una cosa di questo genere capite si è sicuri 100% che quella anima almeno dopo aver subito già il danno di non essere venuta sulla terra almeno però si gode la visione beatifica da subito c'è una nota qui nel testo dove fondamentalmente si dicono cose analoghe a quello che ho detto e si cita dell'altro Maria Valtorta e si ribadisce il danno inferto attraverso l'aborto non soltanto appunto a alla vita biologica di questi bambini fisica ma anche quella spirituale Dio non può lasciare impunito tale delitto dal solo su cui è stato versato il sangue dell'ucciso si vede già con Abele esige che egli faccia giustizia ora ma quale giustizia se non quella di lasciare che si compiano nel tempo e nell'eternità le conseguenze personali e sociali dell'aborto quando la coscienza degli abortisti risorge e sempre sorge e fa nascere in loro lo sprezzo di se stessi sprezzo che li avvilisce mortalmente ecco che i demoni li accusano con giudizi di condanna e li abbandonano alla loro disperazione perché è sempre così il diavolo prima te la fa fare grossa e ti anestetizza la coscienza dopodiché se la coscienza si sveglia arriva a dirti delinquente disgraziato non ti vergogni per niente sei spacciato troppo grande è il tuo peccato per ottenere perdono disse pure a Caino in modo tale che tu cada nella disperazione cosa ovviamente che non sono vere questo è un peccato gravissimo è un peccato che col pentimento Dio perdona richiede l'abbiamo già detto penitenza a vita per essere spiato ma il perdono se uno si pente sinceramente implora umilmente il perdono da parte di Dio c'è le conseguenze psichiche che soffrono le mamme omicidie sono svariate psicosi post aborto disturbo da stress post aborto e sindrome post aborto leggo le note perché manco io so bene cosa sono queste cose la psicosi post aborto è un quadro di scollamento dalla realtà di natura psichiatrica che si sviluppa immediatamente dopo l'aborto e può durare oltre i 6 mesi il disturbo da stress post aborto in acquisito è PTSD si sviluppa a partire dai 3 ai 6 mesi dopo l'aborto e presenta i sintomi tipici dei reduci del Vietnam risvegli notturni incubi tachicardia aumento dell'ansia allucinazioni olfattive uditive visive pensieri e immagini intrusive flashback irritabilità scoppi di collera difficoltà a concentrarsi ipervigilanza esagerate risposte di allarme somatizzazione mentre la sindrome post aborto PAS può insorgere sia subito dopo l'evento aborto ma anche a distanza di anni persino a decenni con incapacità di provare emozioni distacco dagli affetti disturbi della comunicazione disturbi del pensiero disturbi dell'alimentazione disturbi della sfera sessuale disturbi neurovegetativi disturbi fobici disturbi d'ansia depressione pensieri suicidi tentativi di suicidio disturbi del sonno inizio o aumento di sostanze stupefacenti alcol e psicofarmaci sebbene già nel 1981 Vincent Rieu dava una definizione della post abortion stress syndrome il termine non è accettato né dall'american psychology association ovvio né dall'american psychiatric association ovvio no anche se la PAS non compare come categoria nei minori diagnostici i sintomi a cui è associata rientrano comunque all'interno del disturbo post-traumatico da stress ovviamente le grandi riviste di psicologia le grandi non riviste sì le grandi associazioni di psicologi e psichiatri ovviamente ben allineati alla politica all'incorrect dal pensiero dominante al pensiero unico non riconoscono queste sindrome le conseguenze sociali sono devastanti calo demografico invecchiamento della popolazione immigrazione massiva attacco il mare del buco demografico scontro culturale la conseguenza eterna per l'impenitente finale è l'inferno eterno attenzione che di questo delitto bisogna pentirsi altro che le sceneggiate che fanno le organizzazioni pro aborto che vanno a a vandalizzare le sezioni dei gruppi pro vita chi non si pente di questo peccato può stare proprio sicuro che va all'inferno sparato dritto per direttissima proprio sicuro sparato se non vogliamo tutte queste conseguenze sottaciute dall'astuto maligno che è stato omicida fin da principio viviamo integralmente la nostra fede non cediamo all'ingannevole logica che a partire dalla percezione del nascituro come un problema vedete siamo d'accordo no la vita come un problema come una minaccia vedere all'aborto la soluzione e combattiamo sia ben chiaro a tutti che non la società nella quale i più deboli i più indifesi e innocenti vengono uccisi impunemente nessuno di noi è al sicuro nessuno è al sicuro e ripeto uccisi impunemente a spese nostre anche mie io pago io io pago capite veramente l'aborto fu il più abominevole di tutti i miei peccati e non lo confessai prima della mia esperienza nel purgatorio avendo abbandonato quasi totalmente dall'età dei tredici anni la confessione sacramentale ed evitando da allora di confessare i peccati inerrenti alla sfera sessuale posso dire ecco questo in termini molto generici che i peccati in questi peccati inerrenti alla sfera sessuale vengono confessati soltanto da persone che cominciano a fare un serio cammino di conversione altrimenti oggi stiamo in un mare di come dire di di fango dilagante dovunque e i penidenti saranno tutti santi saranno sono miracolosamente salvi da questo mare di fango il problema è che se poi qualcuno si sente qualche catechesi o si legge qualcosa che gli prende un pochino di si svega un pochino la coscienza gli prende un pochino di paura scappa a confessarsi immaginate no nessuno può immaginare sicuro insomma a coloro che hanno commesso questa colpa e ne provano un sincero pentimento non si parlerà mai troppo di misericordia ne hanno tanto bisogno per continuare a credere e per sentire che Dio li ama ancora come prima e più di prima quella chiesa che in nome di Cristo non può che essere intransigente nel condannare l'orrendo delitto dell'aborto sa anche essere piena di misericordia nell'offrire a chi lo ha commesso il perdono del Signore e la possibilità di tornare a vivere a credere a sperare ed amare ricordiamo sempre le parabole della piccola della smarrita c'è più gioia in cielo che per un peccatore che si converte che per 99 giusti una persona che ha fatto una cosa del genere che si confessa che si converte è un lutto inferto all'inferno insomma perché ha fatto un atto insomma sommamente gradito ai diavoli e poi attraverso il perdono e la misericordia sfugge alla presa dei diavoli torna in grazia di Dio e quindi è accordissimo l'unica cosa che dico ma sicuramente questa ne intendeva anche Gloria è che attenzione a parlare della misericordia in maniera un po' troppo facil oneristica non so perché non così tu devi pentire profondamente e guarda se ti azzardi di fare una cosa del genere non la devi fare più per nessun motivo devi ripararla bene e a queste condizioni certamente che il Signore ti perdona ma no a dirgli ah vabbè non fa niente che vuoi che sia tutto sommato Dio è buono Dio ti perdona tranquilla e no non in questo modo fidanzamento dopo l'aborto nonostante avessi potuto constatare l'immaturità e l'irresponsabilità del mio fidanzatino risfernando rimasi a lui unita continuando per giunta ad avere con lui dei rapporti sessuali avevo quasi completamente abbandonato l'insegnamento sulla purezza della mia mamma l'insegnamento ispirato alla morale sessuale cattolica da quando avevo 13 anni iniziai a non volerle dare ascolto e quindi non sottomisi i miei naturali e buoni istinti sessuali alla ragione illuminata dal sesto comandamento il mio ingombrante desiderio sessuale che cresceva nella misura che veniva da me alimentato dalla pornografia e dai racconti sessuali delle mie amiche come quelli sui raduni ippi da loro frequentati mi impedì allora nell'adolescenza di ordinare i miei buoni istinti sessuali al mio vero bene facendoli custodire dalla virtù della castità non seppi dunque vincere le tentazioni provenienti da me il mondo tra cui le mie amiche e il demonio mi convinzi che il mutuo consenso mio di Luis Fernando e le nostre unioni carnali rendesse tali atti decidi ragion per cui mi abbandonai ai rapporti prematrimoniali e la lussuria dominò la mia mente influì nei miei criteri per la scelta del mio futuro marito e mi fece giungere al matrimonio completamente impreparata questo è uno degli effetti collaterali di chi gioca a fare marito e moglie prima del tempo cioè che arriva al matrimonio completamente impreparata e altra cosa da notare cioè qui si scambia come dire il il reato con il peccato cioè che si abbiano dei rapporti sessuali consenzienti superati i 14 anni perché ecco almeno era quando si è stato il diritto penale se uno c'è un rapporto con una con un infra 14enne anche se consenziente era violenza sessuale sopra i 14 anni se sono entrambi consenzienti non c'è niente di male dal punto di vista del codice penale però non dal punto di vista dei dieci comandamenti e adesso non c'è più coincidenza tra codice penale e dieci comandamenti da un pezzo sentite adesso e la voce meravigliosa confermò per filo e per segno quanto la mia mamma mi aveva insegnato e mi disse che l'unico attenzione è l'unico atto sessuale santo l'unico è quello tra marito e moglie se non viene reso infecondo per malizia quindi ah qui ho trovato un repertorio in giro di interventi scritti orali io l'ho sempre detto questo qui cioè sull'argomento sessualità bisogna farsi proprio un'idea proprio cristallina facile facile cioè questa cosa non esiste non esiste non c'è a meno che a meno che io non ci abbia la vocazione al matrimonio e la viva in modo naturale quindi la sessualità naturale finalizzata alla vita con l'apertura alla vita perché anche nel matrimonio non è tale libera tutti siamo sposati e quindi si fa qualunque cosa e quindi si pratica qualunque tipo di sessualità pulita o sporca e quindi anche le richieste un pochino alternative ma sì ma tanto siamo sposati quindi no no per esempio il peccato in puro solitario uno si deve completamente dimenticare che esiste perché il peccato in puro solitario non è lecito mai in nessun caso e per nessun motivo guardate che nemmeno a scopo diagnostico ci sono degli esami per gli uomini che richiedono la raccolta del seme che non c'è nessun altro modo per farlo che compiere gli atti masturbatori non si possono fare quegli esami uno dei tanti motivi per cui non si può praticare non è l'unico più importante l'inseminazione è questo perché per l'inseminazione devi comunque estrarre il seme maschile come lo estrai quando un atto è intrinsecamente cattivo come lezioni di Giovanni Paolo II non c'è fine che lo renda buono dice no ma io col seme devo fare la visita no il fine certamente sarebbe buono quindi non è che tu fai quel gesto allo scopo di procurarti il piacere ma tu quel gesto lo fai e quel gesto non si può fare non si può che facciamo te metti qualche altra cosa la l'umanità è andata avanti per secoli senza quel tipo di esame te metterai qualche altra cosa c'è sempre un modo le mie unioni carnali prematrimoniali mi apparivano nel libro della vita ciò che erano in verità e cioè degli sfoghi di sterile lussuria il vizio degradante quello che dovrebbe far venire ai figli di Dio scusatemi il volta stomaco solo a pensarci tra l'altro significa quando uno vomita proprio il disgusto la nausea in essi io ero pari a chi si rotola ubriaco nel fango e nei ricurgini della propria ubriachezza uguale pazzi forse anche un po' peggio avendo avvilito me stessa nella fornicazione ero divenuta peggio del verme e della bestia più immonda lo dice lei io non ho detto niente non ho detto ma sono d'accordo al 400% il volta stomaco assoluto peggio del verme e della bestia più immonda e non è un modo di dire attenti eh perché questo era il mio aspetto in quell'ordine avoragine del purgatorio in cui stavo guardando il libro della vita lei si è vista era così i fornicatori se lo ricordino sia i liberi concubini che i non concubini ma fornicatori comunque non è niente e non fa niente che non c'è film non c'è serie in cui non ci sia la scenetta d'accordo di due innamorati che appena si innamorano che devono fare immediatamente vanno a finire dentro 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 insieme come cosa assolutamente normali così vengono presentate oggi peggio del verme e della bestia più immonda sfoghi di sterile russuria pari a chi si rotola briaco nel fango e nei ricurgili della propria chezza se avessi ascoltato la mia mamma cristiana quanto sarebbe divenuta bella la mia anima nostre anime devono rimanere pure purissime come i gigli quanti dolori conseguenti ai miei peccati sessuali mi sarei evitati e guardate che l'anima di una di una persona che arriva vergine al matrimonio e che vive il matrimonio solo così e ci sta ancora qualcuno e questo lo fa guardate che è un'anima pura anche se ha perso la virginità non è vergine ma è pura mentre può anche darsi il caso che un'anima vergine non sia perfettamente pura se avesse fatto qualche peccato più piccolo per quanto riguarda il sesto comandamento paragrafo seguente la mia maturità primi anni di matrimonio avevo circa 19 anni quando nel 1977 mi sposai in chiesa con Luis Fernando quindi ci sta dicendo che Gloria è nata nel 1958 quindi al momento facciamo se fossero 60 non è 65 anni no 58 sì 58 più 70 farebbe 28 65 ancora abbastanza giovane sebbene avessimo scelto il matrimonio istituto che coerentemente con l'origine del termine dovrebbe enfatizzare la finalità procreativa dell'unione questo perché perché il termine matrimonio che viene dal latino matrimonium è formato dal genitivo singolare di mater cioè matris matri unico al sonfisso monium che è collegato al termine munus cioè dovere compito quindi matrimonio significa letteralmente compito di madre e quindi l'enfasi è sulla finalità procreativa dell'unione ed infatti ed infatti il fine primario del matrimonio era e sempre sarà la procreazione quindi pensate che per esempio come si scrive qui in nota chi vorrebbe il matrimonio omosessuale cioè matrimonio omosessuale è uno simoro o se si preferisce è una contraddizione in termini perché se è matrimonio cioè dovere di madre quindi intrinsecamente finalizzato alla fecondità e alla procreazione è possibile che tra due persone dello stesso sesso ci sia un matrimonio perché per antonomasia non possono essere feconde quindi sebbene avessimo scelto il matrimonio non volevamo figli almeno all'inizio perché l'essere genitori ci sarebbe stato di intralcio alla realizzazione di ciò che crediamo prioritario ci sono coppie che fanno così sposano però per un po' niente figli adesso vedremo le modificazioni di gloria ci sono assicuro alcuni che per un po' niente figli perché perché ci dobbiamo divertire i figli però un po' momento che qui allora essendo ancora al secondo anno universitario cioè a 19 anni presso il collegio colombiano dei odontologos volevo per prima cosa laurearmi e vi riuscì il 22 gennaio 1981 cioè dopo 4 anni dal matrimonio poi volevo fare pratica come dentista e porre le basi per un mio studio dentistico nel mentre volevo dedicarmi alla cura della mia forma fisica al divertimento con gli amici e al sesso ludico e spensierato con mio marito Luis Fernando entrambi avevamo una passione per la pornografia ah bene ecco qua i nostri dati sessuali erano dunque conformi alle scene che vedevamo sullo schermo del televisore posto nella nostra camera da letto ah trasformarmo il nostro talomo noziale in una cloaca di vizio concentrati come eravamo sulla materialità dell'atto sessuale e avendo perso di mira la santità del suo dubbio scopo unitivo e procreativo quindi si sta dicendo che vedevano i film pornografici e poi facevano la riproduzione mi sembra di aver capito bene i nostri dati sessuali erano dunque conformi alle scene che vedevamo sullo schermo del televisore posto nella nostra camera da letto non avevamo fede se l'avessimo avuta avremmo vinto la carne ma non l'avevamo e il senso predominava sull'anima per cui facevamo del matrimonio una prostituzione e distruggemmo la ragione per cui esso fu creato capite perché la madonna fatima come riferiva suor non so suor giacinta scusate la piccola giacinta di fatima la pastorella giacinta diceva ci sono molti matrimoni che non piacciono a dio non sono da dio un matrimonio vissuto così stare tranquillo che a dio non piace assolutamente una profanazione perpetua del talamo nozziale attraverso la libidine consumata dentro del sagramento è un'aberrazione è una profanazione continua del talamo nozziale il talamo nozziale deve essere inviolato immacolato come si legge nel nuovo testamento non solo perché gli sposi sono fedeli tra di loro ma anche perché non fanno queste porcherie non si fanno porcherie all'interno del matrimonio la pornografia bisogna prenderla e buttarla nella cloaca d'inferno da cui è stata concepita e partorita e se fa già vomitare il sesso fuori del matrimonio figuriamoci quel mare di monnezza e di letame che partoriscono questi personaggi che speriamo che si convertano e si pentano anche questi ho finito oggi per grazia di Dio con chi collabora con me la revisione del mio libretto questo non è tanto un libretto che sono 230 pagine sui dieci comandamenti e lì ho citato a proposito del sesto ciò che diceva padre Pio a proposito delle realizzazioni diciamo così cinematografiche di contenuti erotici non dico troppo spinti a lui diceva questo l'ho sentito con le mie orecchie chiaramente non c'è la citazione perché è una cosa che ho sentito con le mie orecchie quindi la riporto e mi prendo la responsabilità di quello che dico che padre Pio diceva che la paga cara dinanzi a Dio oppure chi ci mette un chiodo nel set dove sarà girata una scena erotica cioè il coreografo quindi quello lì che deve portare materialmente le cose la paga anche lui Dio non fece maschio e femmina perché raggiungessero stanchezza e nausea nei loro vizi li ha fatti per un'altissima ragione quando ha detto facciamo l'uomo a nostra immagine secondo la nostra somiglianza e non è bene che l'uomo sia solo voglio fargli un aiuto che gli corrisponda col suo divino pensiero ha sottinteso che oltre alla parte spirituale e intellettiva che ci fa somiglianza a Dio noi umani fossimo a lui simili nel creare altre vite ma lo pensiamo che somiglianza sublime ci ha dato Dio quella di creare altre creature creatori noi pure quando ci uniamo in matrimonio eterosessuale creatori di uomini come l'eterno Dio ora apro parentesi tutto questo è vero ecco però invito forse Gloria non lo sa forse non capisce l'italiano però gli ascoltatori italiani lo sanno questo è verissimo questo qui quindi il matrimonio la vita matrimoniale relazionale e sessuale adesso è questa il problema è che siamo sicuri che la collaborazione che il crescete e moltiplicatevi detto da Dio nell'Eden sarebbe stato così come è adesso c'è un ciclo di catechesi sul peccato originale queste non sono cose mie sono cose su cui si hanno cominciato a riflettere dei padri della chiesa che erano convintissimi che la generazione delle vite tramite comunque concupiscenza perché gli atti sessuali anche quelli ordinati tra i coniugi sono atti compiuti nella concupiscenza punto e tanto è vero che pure dentro il matrimonio questo lo notava Sant'Agostino viene trasmesso il peccato originale ma come mai se c'è un sacramento che come dire pulisce questa cosa quindi la purifica perché fuori dal matrimonio è fornicazione quindi è peccato mortale dentro il matrimonio no purché sia aperta alla vita però come mai che si trasmette il peccato originale proprio in quel momento proprio attraverso quell'atto capite come ragionavano i padri della chiesa no? e allora concludevano che lo stato di virginità era uno stato universale voluto da Dio per gli esseri umani certamente nessuno capisce nessuno sa e ci è arrivato a come sarebbero nati gli uomini senza concupiscenza fermo restando che Dio voleva come dire comunicare all'uomo questa sua partecipazione del suo potere creativo quindi non creare tutti quanti gli uomini come ha fatto con gli angeli da sé ci abbiamo un solo esempio però è azzardato dire che sarebbe andare da per tutti così anche perché quel solo esempio riguarda soltanto la componente femminile non coinvolge la parte maschile è Maria Santissima no? Maria Santissima ha concepito ed è stata madre veramente ed è nata ma lei non sa neanche che cosa sia la concupiscenza ha concepito senza concupiscenza ha partorito senza dolori ma i dolori del parto per esempio e tutte quante le altre mortificazioni che le donne vivono è evidente che sono una conseguenza del peccato originale il dolori del parto lo dice proprio il testo biblico con dolore partirò i tuoi figli no? questo per chiudere parentesi e per rimandare se volete chi volesse approfondire questa tematica c'è appunto questo ciclo di catechesi che tra l'altro chi vede il video su youtube fate attenzione ogni tanto perché ci sono e farò in modo adesso sto guardando il tempo in cui sto dicendo questa cosa che arrivi proprio in questo momento e ogni tanto metto sopra dei suggerimenti degli inviti a guardare che sono sempre inerenti alle playlist una playlist vuol dire un ciclo di catechesi integrale quindi se vedete il peccato originale è l'origine di ogni male questo è il ciclo di catechesi che raccoglie tutte le credo che fossero 33 di questo ciclo le catechesi fatte su questo argomento quindi con il pensiero ad uno ad uno di tutti quanti i padri della chiesa che hanno affrontato questo tema e poi e poi questo tema è stato anche ampiamente sviscerato dalle rivelazioni concesse a Dio da Maria Valtorta tutto quello che si può sapere ulteriormente che presenta degli sorprendenti punti di consonanza con il pensiero dei padri antichi appunto dalle rivelazioni fatte da Dio Maria Valtorta vado avanti io e mio marito di tale missione nei primi anni del nostro matrimonio abbiamo fatto quindi un disastro io inveivo contro la colpa di Eva al pensiero di dover soffrire le doglie del parto mio marito ma le diceva la colpa di Adamo quando faticava e pensava di doverlo fare molto di più per mantenere dei figli il serpente antico era ancora fra noi nell'interno delle nostre case e ci insegnava col suo strisciante e bavoso abbraccio e sussurro l'immoralità che ci faceva ripudiatori della nostra missione creativa l'aderire al senso sino alla nausea e il negarci alla paternità e alla maternità era vizio è una testimonianza veramente coraggiosa anche questa questa facendo una confessione pubblica confessione pubblica che si spera provochi molte confessioni private perché chi ascolta queste cose ci si ritrova veda di fare presto a correre in confessionale quindi presto avremmo dovuto essere continenti se non ci sentivamo pronti ad essere genitori oh continenti se non ci sentivamo pronti ad essere genitori la castità non è peculiarità dei vergini la verginità è la superessenza della castità ed è depositata nel quale degli eretti a seguire l'agnello e a parlare un linguaggio concesso a loro soli va parole sacrosante la superessenza della castità e la verginità ed è depositata nel cuore degli eretti a seguire l'agnello dice il libro dell'apocalisse che quelli che seguono l'agnello dovunque vada sono vergini e a parlare un linguaggio concesso a loro soli qui è citato Matteo 19-12 ma guardate questa donna che intelligenza che ha quando Pietro dice ma se questa è la condizione dell'uomo dinanzi alla donna non conviene sposarsi e Gesù risponde non tutti possono capirlo ma solo coloro ai quali è concesso i vergini parlano un linguaggio che è concesso a loro soli perché è una cosa meravigliosa però la castità non è peculiarità dei vergini io questo lo spiego benissimo lo spiego in catechesi e scritti la castità è una virtù che abbraccia tutti gli stati di vita matrimonio compreso c'è una castità coniugale la prima cosa l'ha già detta indirettamente gloria non si fanno le porcherie dentro i matrimoni se non si è pronti a essere genitori si pratica la continenza perché scusate avere una vita sessuale attiva non è mica indispensabile non è come uno muore se non ce l'ha non si muore non succede niente non succede muori se non mangi non se non hai una vita sessuale attiva se non è da bocchino morto ma se il candore dei vergine si tinge del furgore che emanano il verbo di Dio e la purissima madre del verbo o la stola dei conugi santi che seppero essere casti si indora della luce che emana dal più casto e buono e santo dei conugi il padre putativo di Gesù padre che è l'esempio di tutte i coniugali allora ripeto due conugi santi cioè chi arriva vergine al matrimonio e vive il matrimonio come Dio comanda non perde la purezza quindi non è vergine ma è cast Pio undicesimo ha scritto un'enciclica meravigliosa andatela a leggere la trovate online si chiama la Casti Connubi 1931 io sono innamorato di quell'enciclica è bellissima anche se c'è quasi cent'anni sembra scritta ieri stupenda bellissima la stola dei coniugi santi che seppero essere casti e si indora della luce riflette la luce di San Giuseppe anche di San Giuseppe c'è avuto anche lui una marcia in più perché San Giuseppe non è stato soltanto sposo casto è stato anche sposo virginale in quel matrimonio non unico perché di matrimoni come Giuseppe e Maria c'è una sua unità in altri altri nella storia io il mio secondo nome che pochi conoscono perché è di battesimo Maria lo conoscono tutti ma Enrico lo conosce quasi nessuno ma Sant'Enrico imperatore era sposato a Santa Cunegonda ma hanno vissuto un matrimonio bianco il matrimonio bianco vedete quello che ho detto prima richiama un po' quello che forse sarebbe stato ogni matrimonio quindi con un grande amore ma senza come dire esercizio di libidine nemmeno nella forma lecita e evidentemente benedetta dal Signore perché aperta la vita riprendo la lettura siate casti nell'interno delle vostre case come fuori di esse pensate che nulla è nascosto a Dio non è che Dio diventa cieco o che non vede al buio vede vede lasciate ai figli di Satana certi delitti occulti e guardate che dice questa è un'altra cosa che ho detto tante volte non siate inferiori alle bestie che comprendono la bellezza del procreare e che sanno imporsi un freno quando la stagione avversa negherebbe nutrimento ai piccoli loro cioè gli uomini di oggi devono mettersi a scuola degli animali perché gli animali si uniscono solo per procreare perché sono programmati per questo non hanno medito però sono diventati i maestri degli esseri umani che invece si avvoltolano nel brago delle porcherie amatevi e amate Dio pensando non al piccolo giorno di qua giù ma al giorno eterno e fate che sia per voi di luce piena benedetti da ora o coniugi che sapete essere santi e vivere nella legge di Dio andate amici con matrimonio santo due coniugi santi sono una benedizione per loro per la chiesa per chi gli sta vicino per l'umana società per tutti è un compito assolutamente importantissimo oggi più che mai e se qualche coppia non si è sintonizzata su queste frequenze pazienza facciamo come l'aborto no ecco una bella confessione dopodiché si viaggia al vostro focolare dei congi casti ovviamente si assidono gli angeli e non ricusano di vegliare sui vostri riposi poiché nulla di voi offende quei luminosi spiriti che vedono il volto di Dio e beati della sua luce non possono guardare ciò che è in assoluta antilesi con la luce guardate devo leggere una cosa che è quella che ho appena detto io non giuro mai ma vi assicuro che non l'avevo letta prima la legge la gloria e quindi la leggo e voi congi che tale non siete tornate nella via retta fino a quando siete in tempo non è negando ad una vita di sorgere che aumenteranno le vostre ricchezze anzi dico io anzi veramente vedo che anche in questo caso dice lei e se come da setaccio sfondato fuggiranno in mille rivoli perché altri vizi e peccati daranno l'assalto ai vostri averi e sarete poveri nel mondo e in cielo per colpa vostra parole chiare verissimo questo qui tu non fai figli perché c'è pure quanto e bastano i soldi ti autocondanna ad una vita misera qui e più misera sarà quella di là immaginate cioè io dico sempre non vi immaginate una coppia di sposi che fa 6 7 10 figli e che è sempre vissuta a casta come si presenta a paradiso al giudizio particolare alla grande no io mi metto in ginocchio dinanzi a una coppia che vive così quando sento queste cose vado in estasi vado sono strafelicissimo io non cambierei il mio stato di vita con niente e con nessuno al mondo perché né la virginità ma con niente e nessuno al mondo e meno che mai il sacerdotio proprio cioè io non so come ringraziare il Signore per queste due grazie straordinarie che mi ha fatto e che non so proprio come ringraziarlo ma se vedo una coppia di conugi santi io assicuro credetemi che vado in estasi sono non felice di più perché capisco come quella vocazione santamente vissuta è una cosa diversamente stupenda dentro di me so che non può essere stupenda come quello che vivo detto fra me e voi però comunque stupenda quindi le ricchezze sfuggiranno e sarete poveri nel mondo in cielo per colpa vostra e conclude con queste esortazioni ricordate i comandamenti e le parole di Gesù a chi vive in Dio Dio provvede e qui cita Matteo 6 25 34 io ho sempre detto e concludo che il problema della contraccezione è un problema di fede perché Gesù ha detto e Gesù non è uno qualunque Gesù ha detto non preoccupatevi per la vostra vita Matteo 6 di quello che mangerete di quello che berrete né di come vestirete ma pensate che vostro padre non lo sa che dovete mangiare ma voi pensate che una coppia che si apre alla vita generosamente i figli muoiono di fame ma ne conoscete qualcuna io no o che vanno in giro nudi no no è chi non ci crede noi non siamo soli Dio resiste Dio non è che dorme non si addormentano a prendere sono il custode di di Israele lo diciamo in ebraico Dio non dorme se Gesù ha detto una cosa vedi se è vera fai tutti i figli che Dio dimanda e poi vedrai se muori di fame di fame non muori si muore per altre modiazioni quando si offende Dio e la sua legge ci vediamo nella prossima puntata amici Dio vi benedica e la Madonna vi protegga Dio vi benedica